Signori bentornati in un'altra magica parte di GTA Allora Vediamo un attimo cosa abbiamo da fare Franklin ha 5 missioni eppure Trevor ha 5 missioni Bravo dopo aver ucciso un botto di gente Abbattuto aerei Eccolo qui Garage Stai cazzato non mi serve Guardate sono attivato altre missioni Guardate un po' Beverly Beverly è quella dell'altra volta Mi sa che non l'avevo fatta Forse era quella del fotografo Se non ricordo male Che cazzo l'hai messa la macchina Brutto demente Ne prendo una a caso Come sempre facciamo un po' di missioni Sconosciuti e folli E poi passiamo Sempre alle missioni principali Un colpo forse è meglio che te li andiamo a sparare Prova ad andare Andare pulito di emulation Ok Vabbè Vabbè Non devo usare questa Va a vedere Prego Stronzetto E' uscito dall'ospedale Bene E' uscito E' uscito Il passaggio se non li trovo Così? Ma sei ancora annoiato Ora questo è quello che sto parlando Noi abbiamo limiti Solo i prossimi livelli Che non sono ancora arrivati Sì Iniziamo Traffico Sì 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 E' uscito Oh sì E' uscito In business baby E' uscito E' uscito E' uscito Un cane E' uscito Finché lo invisi dopo sbaglio Non volevo farlo in realtà Povero doggy Aspetta Andiamo contro il mano E' uscito E' uscito E' uscito E' uscito E' uscito E' uscito Adia mi che non lo av겠다 O Assolti E' me Eccolo, questa crie? Booo Booo, tu sei una scuola, ragazzi Mi sono proprio qui e mi metto a mezzo Questo è un pollo di ragazza Si, dai Voi, voi Voi, voi, voi Voi, voi, voi Voi, voi, voi Voi, 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 voi Voi, voi, voi Oh, sì, e ancora e non dirlo due volte stavo già pensando ecco fortunato mica che non esce fuori dal finestrino ma porca trovi queste botte frontali oh così oh merda 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 ma pensi che ti hanno appaccato zio ma tu mi dà di mangiare 427 dollari minchia non è poco seguo quell'auto non è poco 427 dollari per questa oddio parate lo sapevo ok poi andiamo a fare l'altra missione e poi passiamo una missione fregge sono preoccupato ho passato a chiamarti uno sono io tu non rispondi in giro ho scoperto che non vieni ma so ma è un'email non fa per te ragazzo non fa per te ragazzo sarebbe stato che io da partito non salutare comunque tanto per la corona sono stata nel deserto per dare l'esame di ammettrice di muscoli pelvici per tanto tempo sono stata debole là sotto beh non più però sono forte voglio portare il comando il debole sei tu non solo come uomo come persona stai veramente smarrato questo non mi piace non hai il rispetto si organizzasse un centro per le arti femminili a casa se volessi cominciare a tenersi delle lezioni di biofeedback vaccinale beh come dico sempre che non sia spazzatura questa spazzatura è questa c'è che sei ragazzo dovremmo bisognarla ma diamine se ne ha fatti di orrero incluso avrete però scusami devo condividere un amore senza fine ma che tua zia vieni chi è che belli vieni oh 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 wow 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 leva l'ester what the fuck adesso si ah ok ok vedo redwood cigarettes sure the cigarette that built america they've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment cost of thousands of emphysema sufferers there are four corrupt jurors on redwood's books i'll send you the details oh and we only have a few hours to make them disappear the court case tomorrow morning is that all dog shit that's quite a favor and that's quite a house you're living in get this done quickly and i'll try to throw in a sweetener as well now Adesso mi consiglio di prendere qualche hardware di lungo range per fare questo lavoro Stai aiutando molte persone con questo Franklin Includo qualcuno che potrebbe avere un investimento in debonair cigarettes Ah Debonair cigarettes Cancello questo messaggio Debonair cigarettes come posso Vorrei investire morca droia Adesso che lo so cazzo Aspetta un attimo Finanza e servizi Dove ha debonair cigarettes Non c'è To queste Acquista Quanto le prendo? Ok debonair cigarettes Le ho comprate Togli sto cazzo di telefono Cazzo 6 minuti Devo fare in fretta Ho messo 10k su debonair cigarettes Vediamo quanto mi fruttano dopo sto lavoretto 10k Debonair cigarettes E vaffanculo Vaffanculo E' andato E' andato Digital Nord bla 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 Ok taglio per di qua E' andato E' andato E' andato E' andato E' andato Ma probabilmente Ma probabilmente ce la faccio pure Cribbio Dai Sono arrivato Sono arrivato Sono arrivato Quasi Circa Probabilmente sono 3-4 bersagli E col tempo Dovrei farcela Salvo problemi del cazzo Dovrei farcela Eccolo dove cazzo è l'infame Eh ok Dove lo stronzetto Eccolo guarda Non ho di più di tempo Sì E' andato Rapidamente C'è quelle finestre sporche Ma come le finestre sporche E' eliminato il giurato Viva Quanti cazzo sono sti giurati? Arriva bello Fanculo Non passare Ok 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 ci siamo 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 E' qua Dov'è lo stronzo Finestre sporche Cazzo vuol dire le finestre sporche What the fuck Aspetta forse Sta da qua Aspetta che forse lo vedo lo stronzo Eccolo No aspetta No amica Ancora non ce la farò mai Non ho tempo Non ce la faccio Ho perso troppo tempo Comprato quelle azioni di merda Ho perso troppo tempo Ce la farò mai A meno che non lo mando fuori strada Ma lo devo anche raggiungere Cristo Poliziotti Perché poliziotti Qual è coglioni Due chilometri Non ce la faccio Cazzo elevati Ok il tempo prima Non bastava Adesso due minuti Circa Dovrei potercela fare Raggiungerlo e buonanotte Più o meno Minchia dobbiamo fare due chilometri Guardi un po' Bro Guardi un po' Dammi la tua Dammi la tua Cazzo è Fa schifo pure questa Però tiene molto meglio la strada In questa zona di merda Collinosa Davvero? Un minuto non è abbastanza Porca merda Lo affianco e lo crivello Stile jacuzzi Unicidio stile jacuzzi Su moto Merda lo sapevo Guarda lo sapevo Ma che due coglioni Dove cazzo è finita la moto? Bro fermate Ho avuto un incidente Scendi dai coglioni Pazio Ho 28 secondi Cazzo E' con il bastardo E' con il bastardo E' va a cagare Ma lì Ma che cazzo Oddio Ce l'ho fatta Sono tutti Ok madonna Non moriva E' l'ho fatto Tutti Molto bene Siamo in contatto Allora io ho comprato Un botto di azioni Ne ho comprato 10.000 5.000 da qui E le azioni invece Quanto mi hanno fruttato Però non so se è una cosa istantanea Credo Cambierà C'è nel senso Fammi vedere Guarda Quelle cazzate che ho fatto Minchia Fammi vedere Portafoglio Ritorno investimenti 3.32 Prezzo attuale Ma volendo posso anche vendere Profitto Solo 2.000 Ma che cazzo è 2.900 Ci ho investito 10.000 Ok gare Vendi Vendi Il malo della finanza Non fa schifo E che me l'ha fatto capire Cioè nel senso Se qualcuno fra di voi Sa cos'altro fare Cioè tipo Dove investire Prima dell'ambizione E poi rivendere Mi faccio sapere Perché sono interessanti Queste cose Ora Io devo andare Per la missione di Franklin Cioè io ho messo il 10k Speravo in un ritorno Molto più alto Oh giusto Non dico Che mi aspettassi Un ritorno Di 100.000 Dolly Che cazzo è 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 Ecco 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 Guarda dove metti Pio Idiota Die Die Le riporto Tieni bro Che cazzo è Cazzo è Sicuramente Sarese 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 Oh Sarese Dio Cazzo è Che 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 cazzo è Ahahahah Olè sono a casa Perché c'è un furgone bianco qua parcheggiato? Che cazzo l'ho parcheggiato qua davanti Chissà come mi accoglie la zia Oddio Adesso non puoi andare a piedi in questa città Perché? È la mezza della mia casa? Ora io chiedo alla polizia Per cosa? Questa loialtà, ragazzi? Questa loialtà? Che cosa stai parlando? No, non sai cosa è, homebody Tu non è venuto al set, non è venuto a nessun modo Che cosa stai parlando? Ha? 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 Si vabbè Tradotto a cazzo di cane Ah Ha? 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 Sì? Sì 7 dollari! Sì! 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 Non è costoso! Vuoi essere un uccionato? No, vieni fuori qui, ok? Vieni tutti i stessi! E cosa stai facendo qui? Tu sei con il ragazzo, i ragazzo. Che? Sono nuovo in la città e faccio amici, ok? Ora partiamo! Guarda, ho avuto plani di prendere qualche resta, fino a questo clown e mia auntie venne e lo stai. Mi sono venuto qui per te e ho chiesto a te su una piccola cosa. Ma ho detto che sono freddo, figlio. Che cosa? Io amo cose, sono il re dei cose. Non parlo con te, amico. Ehi, vieni a fare qualcosa su una cosa, ok? Che cosa? Sto parlando di una piccola cosa, figlio. Che meraviglioso, perfetto. È una gangbang, vieni! Sì, vieni! Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Trevor sa già che il cane va lì dentro. Ecco perché c'è il furgone, parcatra, me ne hanno già dimenticato. Where's this thing happening? Down Grove Street! Madonna... Era meglio se la facevo quando era giovane. Noi... in particolare quello che ti preoccupi di stress e questo è un'opportunità devi speculare per accumulare la prima regola del negozio ehi, dopo che stiamo qui stiamo chiamando, hai un po' di pelle un po' di pelle io prendo dove mi prendi a casa l'amore è stile quindi l'ho scusato ci vuoi di quanto che sta svolazionando e puntando il fare oddio Grove Street guarda, tutti fai cool, Lamar sta a fare il suo ok? oddio Grove Street che ricordi che ricordi l'ho giocato per la prima volta qualche mese fa ehi, non è il tuo punto ehi, non è il tuo punto servizio pacchi per ricordare hai la parte? il presidente del contatto hai, 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 hai un po' di rizzo che non? ora parliamo Eccolo Eccolo Vecchia Prima facciamo la strage Guarda Ma che è quello là? Sì è pomo Vai Porca tra quanti sono Oh bella Oddio Vabbè 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 Avanzo e sparo Avanzo e sparo Ma non c'era un lancio a granate No no c'era lui però Trevo che cazzo fai lì in mezzo No Arriba arriva arriva Oppure per finire colpe Uh Tua mamma Vabbè 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 vu' Lei non sembrava. Lecce, lecce. Come left. Oh, di oh, ma chi va. Di questo. L'ascezione deveria di pipa. Teco, teco, teco. Come on! Qua questa è? Perché si è stato in centro? Sound! MC Clip! È il il school basatorio. MC Clip. Clip, guarda qui dentro. Siamo vencati. Siamo vencati. Piazza, piazza. E l'edolta, c***o. È lì e lì qui. Oh, non ti fai! Mi fai a fai a fai a fai! Tu sei che sei da queste ferie, b***h! Oh, c***o! Hey, fai a fai a fai! Che fai a fai? Lasci'ci, ragazzi! Noi, tu sei una fai, ragazzi! Noi, tu sei un po' ragazzi, ragazzi! C***o, questa è una fai a fai! E' una fai a fai! E' una fai a fai! E' una fai a fai! Oddio! Oh cazzo! La marina! Io vado un cazzo di niente! We are racing, you idiot! Racing away from the dudes trying to kill us! I'll meet another time! They got C-Star Racers all over the city! Helpful as always, homie! Ma cazzo Oh Semino gli sbirri, mica una varola Minchia fessimi dai gli elicotti Cazzo Ma quello prende, guarda Tutto però, tranne l'elicottero Oddio Mi sono allenato Ho fatto una cazzata enorme Una puttanata enorme ho fatto Questo cazzo di elicottero lo distruggo, porca droga Vattene affanculo Andiamo a darmene Andiamo a darmene Oh Jesus È l'alba di nuovo giorno Corri, corre, corre,imeter Corri!!! Oh! Saffari nel ghetto E' stato divertente, ma io da qui non so com'è a cazzo uscirne Maledizione Passo a Trevor Dove sarà Trevor adesso? Minchia Non dico che lo stai inseguendo ancora No! Che figata è sta cosa però Minchia Si vede che l'hanno curato eh Perchè per dire potevano fare una roba del tipo Passi a lui eh, lui è già per i cazzi suoi, capito? Invece no, è figo perchè Ricordi nel quale c'è durante i suoi giri per la città della stu Recupera i gt per niente la signora Ma che cazzo ne frega Ok ragazzi allora io spezzo qui l'explay Spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo con la prossima parte Spaccato di leaks e ci vedremo presto Ciao a tutti